Celebriamo la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Siamo nel clima del Santo Natale, quindi abbiamo vissuto la gioia e la festa di una nascita. Eppure nella lettura di questa celebrazione ascoltiamo dal Libro della Genesi un momento difficile dell'esperienza di Abramo. Abramo vive nel rapporto con Dio un momento di incertezza, quasi si lamenta con Dio. Signore, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, non ho eredi, non mi hai dato una discendenza. E la parola del Signore, il Signore stesso, si rivolge ad Abramo in un modo straordinario. Entra nello smarrimento di Abramo e lo porta a contemplare il cielo stellato. Lo condusse fuori il Signore e disse ad Abramo guarda in cielo e conta le stelle, tale sarà la tua discendenza. Lo smarrimento di Abramo è vinto perché il Signore lo conduce, lo conduce sotto il cielo stellato. Lo invita cioè a guardare oltre gli eventi che stanno accadendo, a guardare con più grande respiro alla vita e a tenere acceso il desiderio. E sarà poi il Figlio a garantire, a garantire la permanenza del desiderio di questo sguardo fiducioso e ampio ad Abramo come a tutte le nostre famiglie. Il Figlio è desiderato, è cercato ed il Figlio ti fa guardare alle stelle, ti fa guardare con fiducia al futuro. Finché c'è un Figlio, Dio non si è ancora stancato degli uomini e c'è una possibilità di futuro. La famiglia è proprio il luogo in cui la vita non smette di essere qualificata dalla fiducia, anche quando questa fiducia vive momenti di smarrimento. Nel Vangelo, la parola di Dio che ascoltiamo in questa domenica tratta dal Vangelo di Luca, sentiamo la narrazione dell'esperienza di questa famiglia, della famiglia di Nazareth. E l'esperienza è molto bella e riguarda ogni famiglia, perché riguarda la vita di un figlio che quella di Gesù, come quella di ogni figlio, comincia il suo cammino nel mondo portato in braccio. E questa è una bella notizia sulla nostra vita. Noi abbiamo cominciato così la nostra vita, portati in braccio, portati in braccio dai nostri genitori, portati in braccio da Dio stesso. Portati in braccio perché poi impariamo a camminare senza dimenticare quella braccio originario. Anche i genitori di Gesù, dice il Vangelo di Luca, portarono il bambino a Gerusalemme. Lo portano, lo conducono, lo portano in braccio. Per fare che cosa? Per presentarlo al Signore, per metterlo nelle braccia di Dio. E questa è la garanzia per la vita di un figlio, che sia tra le braccia di Dio come l'abbiamo ricevuto dalle braccia di Dio stesso. E qui Maria e Giuseppe incontrano due persone decisamente importanti per la loro vita. Due persone anziane, Simeone e Anna. Anche i genitori di Gesù, Maria e Giuseppe, hanno ancora bisogno, come hanno avuto bisogno all'inizio di una parola d'angelo per capire il mistero di quel figlio che stava per nascere. Anche qui hanno bisogno di parole d'altri, quindi che la loro famiglia non sia una famiglia appartata, ma sia una famiglia allargata, aperta, che sa incontrare l'altro, perché solo attraverso queste parole d'altri si rivela l'identità di questo figlio. Anche questa è una bellissima rivelazione sul senso della vita familiare. Il figlio è sempre condotto dai genitori, ma è condotto anche all'incontro con altri, perché in questo dialogo, in questo incontro, si possa scoprire qualcosa del proprio figlio, proprio del proprio figlio. E loro ascoltano parole forti, ascoltano parole potenti, che però sono parole di benedizione. Questo figlio è qui per la gioia di tantissimi, sarà anche qui perché qualcuno dovrà sentirsi contraddetto dalla novità delle parole di questo figlio, ma questo figlio sarà benedizione per tutti. E questo figlio potrà essere preso tra le braccia di Simeone, tra le braccia di Anna, potrà essere abbracciato, cioè potrà essere avvicinato. E allora questa famiglia, questa famiglia scopre che la loro presenza nel mondo è una presenza destinata. Ritorneranno a Nazareth, alla vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana, ma si sentiranno ormai parte della grande storia che Dio vuole costruire con gli uomini e con tutti gli uomini. È luce per illuminare le genti, oltre che essere gloria del popolo in cui è nato, del popolo di Israele. È vostro il figlio, ma è per tutti e destinato a tutti, come ogni figlio, come ogni esistenza. Appartiene a qualcuno, viviamo un legame strettissimo con qualcuno, ma siamo destinati a tutti e a portare quella parola di novità, che a volte è segno di contraddizione che caratterizza la vita di ognuno di noi, portarla come parola che è un fermento di novità per tutto il mondo. Ma c'è bisogno di altri incontri, di altre persone, di altre presenze, di vivere mai appartati, di non vivere appartati, per poter scoprire questa identità, questa identità nostra che è sempre un'identità aperta. In questo senso questa famiglia di Nazareth è benedetta e in questo senso ognuno di noi, soprattutto ogni figlio, è una benedizione.